Esercito in soccorso dell'ospedale per migliorare la gestione dell'emergenza e la richiesta arrivata alla Regione Abruzzo dal Tribunale della Sanità all'indomani di altri episodi balzati alle cronache nell'ex pronto soccorso, dove, in attesa dei lavori annunciati dalla Regione, la situazione resta ingestibile. Un solo medico deve provvedere alla gestione dell'emergenza urgenza e al monitoraggio dei pazienti Covid che si trovano in un'ala opposta a pronto soccorso, ricorda a Puglielli dal Tribunale della Sanità. La situazione dei pazienti Covid è preoccupante. In Regione non ci sono disponibilità per accogliere pazienti Covid che si trovano nel nostro nosocomio. I pazienti più gravi, per ragioni tecniche, non possono nemmeno essere trasportati con l'isoccorso. Di fatto la zona grigia è diventata a tutti gli effetti un reparto. So che alcuni ospedali stanno creando delle parti Covid per sostenere gli ospedali in difficoltà. Questa mattina, dove essermi confrontata con alcuni operatori sanitari, ho chiesto alla Regione di intervenire urgentemente, sollecitando un ampliamento dell'organico e comunque nell'attesa ho chiesto di valutare la possibilità di inviare l'esercito per aiutare i medici di pronto soccorso a gestire questa emergenza Covid. Una richiesta che fa il paio con quanto avvenuto in altri nosocomi dalla provincia e che arriva dal mondo del volontariato che sempre più si sta sostituendo alle istituzioni.